L'unione di questa nazionale si è vista oggi nel tuo abbraccio con la tua compagna, in questa giornata in cui è stata definita la squadra azzurra. C'è comunque da parte tua, anche se sarai riserva, la consapevolezza di aver dato tutto per la maglia azzurra? Questo sicuramente. So di aver lavorato bene negli ultimi due anni, anche se sono al centro federale da quattro. Ho lavorato bene, le ultime gare purtroppo non sono andate come avevo pensato, però dai, sono la quarta di una bella schiera di persone e sono contenta anche soltanto di essere quarta. Sei stata campionessa mondiale lo scorso anno a Torino, un'esperienza importante che ti potrà servire anche per il futuro, per il prossimo quadriennio. Questo sicuramente, mi darà sicuramente una marcia in più, la grinta giusta probabilmente per affrontare i prossimi quattro anni che sicuramente non saranno semplici. È comunque un titolo mondiale, non tante persone possono vantare questo titolo e poterlo avere nel mio curriculum è di grande peso. Farei sicuramente il tifo per le tue compagne adesso? Questo poco mi assicuro.